Sono Martina Lui, sono con Alice Salimbeni, come potete vedere. Siamo due dottorande dell'Università degli Studi di Cagliari, sotto la supervisione del professor Maurizio Memoli. Alice si occupa di studiare il rapporto tra corpo delle donne e la città, con approcci visuali di costruzione collettiva di film fiction, per studiare discriminazioni. Io mi occupo del rapporto tra infrastrutture viarie e produzioni di urbanità differenti, usando gli strumenti del global urbanism, dell'ecologia politico-urbana e con un approccio tecnografico-visuale. Inizio con una breve introduzione, prima di portarvi poi nel cuore della nostra esplorazione e presentazione. La città è totalmente urbanizzata e questo è il famoso incipit con cui si apre l'opera veramente profetica di Enrique Lefebvre di Urban Revolution, che ha gettato le basi per il dibattito sempre più attuale sul planetary urbanization e su urban planet. Questo perché l'idea di città come insediamento caratterizzato da elementi ben leggibili come densità, dimensioni e diversità urbana non basta più a descrivere la miriade degli insediamenti che pratichiamo e abitiamo tutti i giorni, anche in maniera indiretta come paesaggi operazionali o non intenzionali. In questo quadro un ruolo di primo piano è svolto dalle infrastrutture, come dispositivi tecnici, politici, sociali, economici e culturali. Questo perché le infrastrutture territorializzano indirizzando flussi ma anche dinamiche sociali, economiche e politiche e allo stesso tempo manifestando quelle dialettiche di inclusione ed esclusione che le stesse reti hanno reso possibile. Eppure è sempre grazie alle infrastrutture e agli interstizi che queste generano che nuove modalità urbani inedite vengono rese possibile. Con questa sempre maggiore complessità anche le diverse tipologie, morfologie e definizioni di insediamenti che nel tempo sono state elaborate è come se non riuscissero a fare a meno dell'idea stessa di città come fulcro del ragionamento urbano. In questo senso la città è come se stesse diventando una vera e propria ideologia che rischia di nascondere e far fuori tutte quelle dimensioni urbane che non sono propriamente iscrivibili nell'idea di città. Questo è quello che Waksimuth chiama methodological citizen che può essere però in qualche modo evitato passando dallo studio della città come oggetto allo studio dell'urbanizzazione come processo di cui la città è una delle sue possibili manifestazioni ma non l'unica. È in una maniera abbastanza simile anche le diverse narrazioni dell'antropocene e anche la sua declinazione urbana dell'urbanocene facendo una distinzione netta tra opera urbana o città, tupur e natura rischiamo di depoliticizzare il concetto perché non riescono a rendere conto delle sottili dinamiche capitalisti e rapporti di potere e le diverse responsabilità che legano profondamente risorse naturali e opera umana. Queste dinamiche sono apparentemente leggibili in contesti che potremmo definire globali e in realtà però in maniera diversa sono leggibili anche in contesti minori come quello del nostro caso studio che è Cagliari e le periferie sorti intorno alla SS 554. Questa è una strada ad alto scorrimento tangenziale alla città di Cagliari che è nata all'inizio degli anni 60 per le mutate esigenze della città e che ha permesso alla città stessa di espandersi dentro questo fortissimo confine simbolico arrivano a diventare una vera e propria conurbazione. Allo stesso tempo però la stessa infrastruttura e tutti quegli interstizi che questa grande opera ha generato ha reso possibile anche la nascita e l'emersione di diverse condizioni urbane molto complesse e molto multiformi potremmo dire perché lungo questo asse si affiancano soborgi residenziali per la classe media ma anche distretti industriali, insediamenti più o meno formali e grandi architetture. Per provare a superare quel metodologico citizen di cui parlavo prima abbiamo fatto un'esplorazione di questi spazi con una metodologia che qui Alice racconterà e ne abbiamo prodotto una nostra personale narrazione. L'area di studio nella sua complessità copre appunto un'area che si struttura intorno ai 15 km della superstrada noi abbiamo scelto un piccolo tassello in cui immergerci in maniera tale da poterlo esplorare senza disperderci eccessivamente. Ci siamo recate nei pressi della 554 e abbiamo scelto di partire da questo spazio che vedete nel video, vedrete anche altri video nelle schermate successive. Decidiamo di fare una cosa molto semplice cioè derivare senza schemi, quindi all'inizio non ci diamo nessuna regola, decidiamo semplicemente che toccheremo, ascolteremo, registreremo, rappresenteremo con gli strumenti che in quel momento ci parevano i migliori, ciò che il nostro corpo riusciva a intercettare dello spazio. Il nostro approccio per questo può essere considerato performativo e anche non rappresentazionale nel modo e negli strumenti che abbiamo utilizzato per approcciarci a questo spazio. Ci lasciamo travolgere dal contesto e nel mentre ci muoviamo camminiamo attraverso questi spazi e quindi entriamo in quella particolare condizione in cui il corpo diventa capace di relazionarsi allo spazio nella sua totalità e di sperimentare quello che Simonsen chiama Global Touch. Non ci poniamo troppe domande, non cerchiamo di darci risposte, non daremo risposte nemmeno a voi. Ci lasciamo semplicemente guidare dal nostro corpo e deriviamo come facevano i situazionisti in città, ma noi lo facciamo in uno spazio che non è ben chiaro che cosa sia. Parcheggiamo la macchina alle spalle della fotocamera, lungo una strada secondaria seguiamo la ferrovia, inoltrandoci in questa strada sulla sinistra che passa dietro l'ex stazione di Selargius, quella che vedete. Ora occupata da qualcun'uso residenziale, due cani da guardia fanno un gran chiasso, ci spaventano, ma una volta lontano dalla loro vista precipitiamo in un silenzio apparente. Seguiamo la linea della ferrovia a scartamento ridotto che è quella che vedete nella foto e ora è utilizzata come una metropolitana di superficie e camminiamo lungo i binari. La metro è quasi sempre vuota, passa circa ogni 10 minuti e ogni volta che passa poi l'impressione è quella di trovarsi in un silenzio ancora più intenso. In queste campagne che sono trascurate, odorose, l'odore è quello delle campagne sarde per chi la conosce, foglie di fico e palle di fico d'India. Attorno a noi ci sono campi coltivati, campi incolti, recezioni artigianali improvvisate e particolari, qualche casa, piccole discariche abusive e un cumulo di copertoni che attira la nostra attenzione perché è parecchio visibile. È difficile parlare di città in un caso come questo perché si tratta di un territorio ancora molto agricolo, però non del tutto agricolo e anche un po' urbano. Lungo la ferrovia sono state posizionate tante palle di fico d'India e questa è una cosa che ci incuriosisce perché radicano molto facilmente anche in un suolo arido come questo e sembra che vogliano anticipare la costruzione di un muro naturale e non sappiamo chi l'abbiamo, se l'amministrazione o qualcuno che abita lì e che vuole proteggersi dalla ferrovia e dalla strada. A un certo punto ci rendiamo conto di una cosa mentre camminiamo, c'è un sottile rumore di fondo, si tratta di un fruscio e si sente a volte quando non c'è il vento, sparisce subito dopo quando il vento inizia a soffiare un po', tendiamo l'orecchio e mettiamo a fuoco una frequenza indefinita, ci rendiamo conto che non è proprio il vento ma è la strada, la 554 che risuona nell'aria e arriva sino a noi. Noi sappiamo in che direzione si trovi, ne siamo certi, abbiamo la carta eppure sembra di ascoltare un impianto stereo mal funzionante perché il suono arriva, sappiamo che arriva di fronte a noi ma lo sentiamo un po' a destra, un po' a sinistra, un po' dietro di noi. La strada quindi non si vede però è presente e ha una risonanza che si spinge ben oltre il suo dominio fisico e caratterizza i territori nei quali noi stiamo camminando. Ci piace questa idea della risonanza e decidiamo di concentrarci su questo e di organizzare la nostra esplorazione intorno a questo per capire se ci sono delle variazioni della risonanza e delle variazioni del paesaggio contestuale a questa risonanza. Arriviamo a un passaggio livello, automatico, le sbarre si alzano e si abbassano diverse volte durante la nostra permanenza, il da-down da-down che avete sentito prima, lo risentirete anche adesso, sembra fare una eco nell'aria. Poco distante ci sono due signore che colgono i fichi d'India, appunto, e ci chiedono a schietta delle ferrovie. I buchi nella strada atterrata sono tanti ma sono riempiti di cocci, evidentemente qualcuno se ne occupa in maniera informale per evitare di rovinare le automobili. Dopo un certo tempo le due signore salgono in macchina e se ne vanno, non vanno verso la città, vanno dall'altra parte, in una stradina che non sappiamo bene dove arrivi. Nei 35 minuti che trascorriamo in questo punto passano solo 5 macchine, poi passa il treno e torna il silenzio e dopo il silenzio ecco di nuovo alla risonanza che piano piano si fa sentire. Non è possibile capire orecchio quanto la strada è lontana, è difficile perché c'è vento e c'è il frusciare delle foglie che si mischia a questo suono. Il paesaggio è desolato ed esolante, la città è di fronte a noi a poche centinaia di metri, eppure è come se avesse esaurito la sua forza attrattiva e anche quella propulsiva, nel senso che spinge dei frammenti urbani oltre i limiti della strada, ma non lo fa del tutto. Arriviamo a un piazzale che rilascia la strada da cui veniamo alla 554 e c'è un piccolo assembramento di attività commerciali che sono tipiche delle strade di scorrimento, potete immaginarle. Una rivendita di gomme e ricambi per auto, un insegno visibile da chilometri di distanza con la scritta gommista, non ci sono segni di vita, ci sono rivendite di materiale edile, e poi un ristorante che ironicamente si chiama New 504, ma non l'abbiamo mai vista aperto. Ci fermiamo, qui la gola brucia un po', perché c'è smog che ci entra dritto nei polmoni, parliamo a voce alta fra di noi e ce ne rendiamo conto, e guardiamo le macchine sfilare di fronte ai nostri occhi. Ci sono molti semafori su questa strada e ritmano, questo andirivieni di automobili, permettendo il crearsi di alcuni picchi di risonanza e poi nuovamente silenzio. La risonanza qui è talmente forte che quando le macchine non passano, quando ne passano poche, sembra effettivamente che ci sia silenzio, anche se non è così. Di fronte a noi si sentono le campane di una chiesa, che si trova da qualche parte, però non sappiamo dove, fanno un suono che sembra venire molto da lontano, ma poi in realtà controlliamo ed è molto vicino. La chiesa fa pensare alle panchine, alla piazza, ai bambini che giocano, no, ma in realtà attorno non c'è niente di tutto ciò. Le campane sembrano il mivi di uno di quei vecchi cellulari, però attorno a noi ci sono solo strade, smoghe macchine e non capiamo da che parte possa essere questa chiesa. Allontanandoci dalla strada maestra, almeno quel sentimento che fu agricolo, ci immergiamo nuovamente in quei campi, forse abbandonati, o più probabilmente in attesa che qualcuno li trasformi in metri cubi abitabili e vendibili a poche decine di migliaia di euro. In lontananza si vede che questo inizia a succedere e decidiamo di andare a curiosare tra quello che sembra un quartierino già abbastanza consolidato di villetti con giardino privato. Sono in realtà poche vie, ancora in attesa delle ultime urbanizzazioni, in cui alcune famiglie hanno deciso di costruirsi casa. Non sappiamo se siano abusive o meno e forse in questo momento neanche ci interessa. Quello che ci colpisce è che esista questo grappolo di case apparentemente in mezzo al nulla. Perché scegliere questo spazio per vivere? Forse è proprio perché è spazio, ci sono ancora i campi di cui prendersi cura, si può usare con le metrature e godere di un giardino rigorosamente recintato, video sorvegliato e con cane da guardia e contemporaneamente avere un collegamento veloce con la città. Cerchiamo di tendere l'orecchio per cercare il nostro riferimento stradale e dopo qualche secondo di sintonizzazione eccola qua, ricompare, sempre affievolita dalla distanza dal vento ma sempre presente. In questo caso i paesaggi intorno a noi parlano una lingua diversa da quel punto con il passaggio a livello. Qui la strada ha un suo peso, è influito sulla scelta di vita di queste famiglie e orienta lo spazio. Non è solo una presenza in lontananza che non ha la forza per modificare l'inerzia di questi territori. Qui la città inconde, con forme particolari, spontanee e quasi anarchiche, ma inizia a palesarsi. In lontananza si intravede il grande complesso ospedaliero universitario. Anche lui è un po' spaisato in queste terre, ancora indecise su cosa diventare da grandi. Ci sembra di aver chiuso un cerchio e decidiamo di tornare alla macchina, confuse e affascinate da questi territori di frontiera. Mi avvio alle conclusioni. Abbiamo preso un segmento di questa strada così particolare e ci siamo immerse performativamente. In questo segmento ci siamo rese conto della varietà di situazioni che si possono incontrare, che vanno dalla più urbana, potremmo dire che non è veramente urbana, alla più rurale, che non è veramente rurale. Abbiamo individuato dei nodi per noi salienti, perché costituivano un diverso rapporto alla strada, una variazione del paesaggio e una diversa intensità della risonanza. Eppure in questa variazione c'è qualcosa che tiene tutto insieme, ed è la strada, che compese risonanze diverse, influenza e guida questi spazi. Bastano pochi metri di distanza da questa linea simbolica per far cambiare il paesaggio e farci dimenticare per qualche istante della sua presenza, ma poi all'improvviso ritorna presente, sudola come un fruscio oppressante. Negli spazi lasciati vuoti da quei pochi coraggiosi edifici le piante, piante di ogni tipo, quasi sempre secche e qualche volta coltivate, che resistono all'asfalto che avanza come quegli anziani che vedono il proprio quartiere cambiare, che interagiscono con i residui umani dimenticati, volutamente o no, realizzando esseri ibridi di reti di metallo e sfighe, plastiche e foglie, quali edifico di indecorci, giocatoli abbandonati e vigne profumate. Abbiamo interrogato questi spazi, e questi spazi ci interrogano. Li abbiamo esplorati senza fidarci a schemi precostituiti, ma cercando di lasciarci attraversare dallo spazio stesso, da queste continue variazioni, da questi ibridi più che umani, che realizzano una modalità diversa di produrre spazio. Forse meno interpretabile e di più difficile lettura, perché sfugge a quegli schemi che dividono nel mondo urbano e non urbano, senza tenere conto di ciò che non è nell'uno o nell'altro. E con questo abbiamo concluso. Grazie. Grazie.